16 anni di carcere, praticamente metà della pena che il giudice di primo grado Roberto Venditi del Tribunale di Vicenza aveva combinato loro al termine del processo con rito abbreviato, a pronunciare la nuova sentenza oggi è stata la Corte d'Assise d'Appello di Venezia che ha riconosciuto ai due amanti le attenuanti generiche. Nel corso del processo d'appello la difesa con l'avvocato Fabio Crea e Tiziana Ceschin hanno sostenuto che i due fossero stati esasperati proprio dalla vittima. Lucia Logatto e Manuel Palazzo, 41 e 27 anni, di Romano Dezzelino, erano stati individuati grazie alla testimonianza chiave di un meccanico. Era stato lui a soccorrerli dopo che la loro auto era rimasta in panne su una strada nei pressi del Tempieto di Canova, a Possagno, in provincia di Treviso. Aldo Gualtieri, marito di Lucia Logatto e padre delle sue figlie, sarebbe stato prima ucciso e poi dato alle fiamme come avevano ricostruito dopo poche ore gli inquirenti. Perché è stato trovato questa persona, cadavere bruciato in zona impervia, nascosto da un mucchio di sassi con un coltello vicino. Coltello e persona carbonizzati. Era il 23 di aprile del 2015 quando un boscaiolo aveva notato il cumulo di pietre e il corpo semicarbonizzato. In un appartamento di Romano Dezzelino erano state poi individuate le tracce di sangue che erano state lavate con la candeggina. Per questa ragione l'indagine avviata a Treviso è stata poi incardinata a Vicenza. Ora il nuovo capitolo della vicenda con le pene praticamente dimezzate.